Grazie a tutti. Non trovarmi delle giustizie. Mi dispiace, ho fatto questo. Ci ha deluso. Sì, ci ha deluso. Aveva fatto una promessa. A tutti noi. Di trovare la terra. Di trovare la nostra casa. Insieme. E non importa quello che ha fatto il Presidente. O quello che ha fatto lì. Perché ogni giorno che rimaniamo separati è un altro giorno in cui non ha mantenuto la sua promessa. Sì. Le persone a bordo di questa nave hanno preso una decisione. È stata una loro scelta, non me. Grazie, sotto ufficiale. Può andare adesso. Ha chiesto lei di parlarmi, Signore. Forse perché pensava che io non avessi niente da dire. Ma non è così. È il momento di sanare le ferite, Comandante. Molte famiglie sono state delise. Ho detto basta con me. I bambini sono stati separati dai loro genitori. Qualcuno vuole provare? Mi avevate promesso, mi dispiace, uno di voi dovrà venire. Tu. Lui. Abbiamo... Ci va una ragazza. Vuoi fare Duana o Adam? E una donna? Una donna? Su. Dai, forse. Dai, Nicola, dai. Dai, giusto per provare. Sì, tu volevi seguire lei, voleva seguire. Eccola. Eccola. Anche noi all'inizio ci chiedevamo da voi dire. Allora, dovete prima parlare al genio da soltanto. Sì, grazie. Io non credo che il problema sia che è stato. E' stato un po' di tempo. E' stato un po' di tempo. E' stato un po' di tempo. Io non credo che il problema sia che è stato tradito. Credo che lei si senta impotente. Le hanno sparato. Era ferito. Non poteva fare niente. Non trovarmi delle giustificazioni. E quando finalmente ha avuto la possibilità di fare qualcosa... Lo spazio ha fatto questo. Ci ha deluso. Sì, ci ha deluso. Aveva fatto una promessa a tutti noi di trovare la terra. Di trovare la nostra casa. Insieme. E non importa quello che ha fatto il presidente o quello che ha fatto lì. Perché ogni giorno che rimaniamo separati è un altro giorno in cui non ha mantenuto la sua promessa. Le persone a bordo di questa nave hanno preso una decisione. E' stata una loro scelta, non mia. Grazie, sotto ufficiale Dwella. Può andare adesso. Ha chiesto lei di parlarmi, signore. Forse perché pensava che io non avessi niente da dire. Ma non è così. È il momento di sanare le ferite, comandante. Molte famiglie sono state divise. Ho detto, basta così. I bambini sono stati separati dai loro genitori. io non credo che sia problema sia che è stato tradito. Io non credo che il problema sia che è stato tradito. Credo che lei si sente impotente. Le hanno sparato, era ferito, non poteva fare via niente. Non trovo una giustificazione. E quando fin da niente ha avuto la possibilità di fare qualcosa, ci ha deluso. Sì, ci ha deluso. Avevo fatto una promessa a tutti noi di trovare la terra, di trovare la nostra casa. Insieme a me. Mi non importa quello che ha fatto il Presidente o quello che ha fatto lì. Perché ogni giorno che rimaniamo a Sarati è un altro giorno in cui non ha mantenuto la sua promessa. Le persone a bordo di questa nuove hanno preso la decisione. È stata una loro scelta. Grazie a Sosso Ufficiale Cervato. Può andare a con me. Ha chiesto lei di parlarmi, signore. Forse è perché pensava che io non avessi niente da dire. Ma non è così. Grazie.